La verità vi rende liberi La verità renderà liberi La verità non finisce nel narcisismo, non basta se stessa, ha uno scopo Lo scopo della libertà, della verità è la libertà E il cammino tracciato con un verbo al futuro vi farà liberi A indicare che il cammino è un cammino non finito, infinito appunto Ora vorrei fare un'introduzione per aiutarci a capire la frase che è il centro di questa sera Nella Bibbia la verità non si pone come il vertice massimo della ricerca dell'uomo Come perfezione da raggiungere, come un insieme di rivelazioni Ma sta nella nostra pianura, cammina e avanza nella carovana dell'umanità Peregrinante e claudicante sui campi della vita Che cos'è la verità? Allora su questa domanda potremmo fare un festival della filosofia Come è stato fatto a Modena E raccogliere molte definizioni, ogni pensatore ha la sua Ma nessuno è la bocca della verità Anzi voi saprete che la bocca delle verità è soltanto un mascherone di pietra a Roma Nel prono di Santa Maria di Cosbedin Con file pazienti di turisti che attendono il loro turno per far cosa? Per infilare la mano nella bocca del basso rilievo Se sei bugiardo la mano sarà morsa, dice la leggenda E tutti lo sanno che non c'è niente in quella bocca Che nessuno verrà mai morso, eppure ci vanno Non è solo per gioco, non soltanto Forse esprime un'attesa, un desiderio di conoscere qualcosa di più su se stessi Come era scritto sul frontone del Tempio di Apollo ad Elfi Conosci te stesso Oppure il bisogno di essere confermati da qualcuno Abbiamo bisogno di confermi Sulla verità mi piace la definizione data da Mancini Roberto Mancini, l'amico filosofo Dice la verità è una ricerca dialogante Una ricerca insieme Oppure l'altra definizione bellissima di Hans Urs von Balthasar La verità è sinfonica Allora faremo questa piccola ricerca nella Bibbia Ma non si può partire se non analizzando Un attimo, velocemente, il contrario della verità Cioè la menzogna, la falsità La Bibbia è piena di bugiardi e di bugie Ma come mai? E lo è a partire da Abramo Che per una carestia scende in Egitto A cercare pane e dice alla moglie Sarai Tu sei molto bella E io dirò che tu sei mia sorella e non mia moglie Altrimenti quegli uomini uccideranno me Per avere te E anche tu dirai lo stesso Allora non solo mente Ma spinge alla menzogna anche Sarai Per aver salva la vita E la vede diventare la concubina del faraone Ed è Abramo L'uomo della promessa Affidabile Il padre nella fede Gesù dice Paolo è seme di Abramo E anche noi in Gesù siamo seme di Abramo E proprio da quella bugia Comincia la ricchezza di Abramo strano Il faraone gli regala asine e asine Schiavi e schiave e cammelli Dice Genesi In cambio della bella sorella moglie Poi restiamo ai patriarchi Isacco Tale padre, tale figlio Altra carestia Anziché Egitto Al faraone chiede aiuto Ad Abimelech, re di Canaan E si ripete la storia Di bugie con Rebecca La bella moglie Urrita E per aver salva la vita anche lui Come il padre Non esita a mentire Poi c'è il campione dei bugiardi Giacobbe Che inganna suo padre Isacco ormai vecchio E si fa passare per il primo genito Esau Che strappargli la benedizione E gli domanda Isacco Chi sei tu figlio mio? Sono Esau Risponde Giacobbe Fatti toccare Fatti toccare Dice il padre E fa la sua ricerca della verità Non bastano le parole La voce mi sembra quella di Giacobbe Ma le braccia Che aveva coperte Di pelli di agnello Sono quelle di Esau E la grande matriarca Rachele E la mente della macchinazione Contro il vecchio cieco E dopo la benedizione Che è irrevocabile Isacco ha dei dubbi E gli domanda ancora Ma chi sei tu figlio mio? E Giacobbe L'imbroglione faccia di bronzo Risponde Sono Esau E la Bibbia Non esprime Giudizi morali Non fa commenti Riferisce Poi nel Nuovo Testamento Pensiamo a Pietro il bugiardo Nel cortile di Caifa Quando per tre volte Nega e giura Di non essere Discepolo di quel rabbi Caduto in disgrazia Domanda provocatoria Ha fatto male? Siamo sicuri Che in fondo Il fatto Di morire con Gesù Sarebbe stato meglio Per la Chiesa tutta? Lascio lì la domanda La Bibbia Nella sua sapienza Conosce la complessità Della vita E anche la menzogna Ma allora E lecita la bugia? Non è legittimato L'inganno È solo Riferito Ma la Bibbia Comunque non è Rigida O perfezionista È Profondamente vera Nel senso Che è intessuta Di luce e di ombra Come il cuore Dell'uomo E della donna Ora Lascio aperta La domanda Venendo A un minimo Di terminologia Nell'ebraico Biblico La verità Si dice Emet Termine Derivato Dalla stessa Radice Da cui Il verbo Amman Da cui L'affermazione Che ben conosciamo Amen Il significato Di questo Insieme Di parole Indica Consistenza Solidità Qualcosa di sicuro Attendibile Capace Di portare Un peso In greco Altra lingua biblica Verità Si dice Alezzeia Termine composto Da alfa Privativo E lanzano Il verbo Che indica Sono nascosto Allora la verità Etimologicamente Indica una cosa Non nascosta Non occultata Svelata Una nozione Esatta Un'affermazione Che corrisponde Alla realtà Che descrive Invece La parola italiana Verità Deriva dal latino Ver veris Che indica La primavera Verità È ciò che fa Quello che fa La primavera Fa spuntare germogli Fa nascere vita Mette sulla terra Una euforia Di boccioli Di gemme Di ali Non teorie Non sistemi di pensiero Verità è qualcosa Di cui fai L'esperienza Quando dentro di te Senti un crescere Un fiorire Un canto dell'essere Un di più di vita E Karl Barth Lo dice In un'altra forma Il pensiero È vero Quando è pensiero Di vita E così È pensiero Di Dio Ogni pensiero Di vita È pensiero Di Dio Quindi vero Come la primavera Che risveglia Nel profondo Della terra Le infinite vite Così la verità Risveglia Gioia Amore Fedeltà Nel cuore dell'uomo Allora Nella Bibbia Facendo questa escursione È rivelato Da questo Fulmineo Il rompere Del riferimento Con la prima Parola domanda È vero che E tuttavia Capiamo Che la verità È parola Facilmente abusata Facile Da manipolare Se l'inganno Antico Comincia proprio così Indossando la maschera Della verità È vero Ora Il serpente Che manda In avanscoperta Un vero Che è falso Per aprire La partita Di vita O di morte Con l'umanità Per avvelenare I pozzi Del dialogo Piccola parola Quell'aggettivo Primordiale È vero Ma che Sottintende Una funzione Vitale Cioè Se una cosa È vera Allora Ti fidi Ci poggi Sopra la vita Perché è solida Aderisci Perché è capace Di portarti Portare il tuo peso E metta appunto A affidabilità Sicurezza Solidità E indica la via Per giungere Direbbe Dante Un omaggio anche a lui Per giungere Al glorioso porto Della tua vita Ognuno di noi Ha un glorioso porto Da raggiungere Seguendo la via Della verità La verità Nella Bibbia Ricordiamolo sempre Non è un concetto Astratto Assestante Oggettivo Recintabile Ma va colta Ma va colta Nell'intreccio Con la vita Con la libertà Con la fedeltà In una serie di abbinamenti Come una serie di Sintagbi Un esempio Bellissimo È questo abbinamento Verità Unita A vita La formula La formula la conosciamo tutti Dio vivo E vero Oppure Egli è il vero Dio E la vita Scrive Giovanni Oppure La vita vera Le due parole Legate insieme Formano Una unità Indissolubile Dio è vero Perché È la fonte E della vita Non perché Dice cose Dio è vivo E per questo È vero La verifica Della verità Di Dio È che è vivo E perché Invece Gli idoli Sono falsi Perché hanno Orecchie E non odono Hanno bocca E non parlano Hanno mani E non toccano Non hanno vita Criterio Verifica Della verità Di uomo Cosa O Dio È la vita La verità Si pesa Sulla bilancia Della vita Se ha vita E dona vita Allora è verità Se non ha vita E non dona vita Allora È falsità In principio C'è la vita Ricordo Un amico filosofo Che mi diceva Lui è non credente Dice di essere Un neopagano Mi dice Vedi Qual è la differenza Tra te che sei credente E io che non credo La differenza è Che Gesù Anche per me Ha detto cose vere Ha detto cose bellissime Ha detto cose geniali Ma la differenza Ma la differenza è che per te Gesù è vivo Per me no È morto purtroppo Sotto Ponzio Pilato Nel 33 Ecco vedete la differenza Dove si posa Dove si posa Non su nozioni Ma sulla vita E allora la verità È questo legame Abbinamento Collegamento Dialogo Ogni cercatore Che la raggiunge Viene mandato oltre Invitato a continuare A cercare su altri terreni A tesserne l'arazzo Con altri fili d'oro La verità da sola Non ce la fa Non illudiamoci Separata Si ammala Isolata Muore Come il cuore dell'uomo Possiamo ricordare Alcuni abbinamenti Per esempio Verità e salvezza Shalom Salvezza e sicurezza Shalom ed Emet Sono i doni di Dio Secondo Geremia E più frequente ancora Bontà e fedeltà Che sono i comportamenti di Dio Chesed ed Emet E il Salmo 85 Bellissimo A quel versetto 11-12 In cui canta Amore e verità Si incontreranno E poi La verità germoglierà dalla terra La giustizia Si affacerà dal cielo Bella Bellissima affermazione La verità germoglierà dalla terra Ma come? Ma non viene da non so dove? No, non ha un deposito altrove nel cielo E noi sulla terra dobbiamo tentare Non di dare la scalata a qualcosa germogliante nel cielo La verità è intesa nella Bibbia Come un germoglio che cresce sulla terra Non è il rimbalzo qui Tra noi di qualcosa che è altrove Questo lo pensava Platone La verità germoglia qui Dentro una storia umana Non è un fatto ma un farsi Continuo Un divenire Anche attraverso le bugie Si fa storia sacra E' l'azione di Dio Che la produce Nonostante tutto Per questo la verità è La creazione La liberazione dall'Egitto L'incarnazione L'azione di Dio La verità però Realtà germinante Come lo è l'uomo Come lo è il mondo L'universo Dice Romano Guardini E c'è un altro Salmo 72 Che dice Germoglio è un nome di Dio Pensate che bello Che fiducia Che primavera Verità di Dio è il germogliare Uno dei nomi del Messia E appunto Inon Colui che ha Un tronco che ha germogli Non un ramo secco Non uno stecco arido La verità germoglia Non è già definita Compiuta Così com'è E' incamminata Come lo sono le nostre vite Con la fatica Come quando Ascoltano il richiamo Stai davanti a Dio In verità e sincerità Nel primo libro di Samuele 12 L'invito rivolto al credente Stai davanti a Dio In verità E' la richiesta Diversa Che tu sia schietto Integro Retto L'unica condizione Per il perdono E' la sincerità Del cuore Dice il Salmo Miserere di Davide Il potente Miserere Allora Ricordiamo Tipica della Bibbia E' sconosciuta Presso la cultura greca E' Un termine Su cui poi rifletteremo Fare La verità Si capisce allora Che la verità Non è Solo data qui Adesso Ma viene dal futuro Da gesti E da comportamenti Che saranno messi in atto Da Dio e dall'uomo La verità è futura La verità è relazione La verità Non è concetto O astrazione Ma un germoglio Da custodire Un avvenimento Un'azione di Dio E vita dell'uomo Più che conosciuta Deve essere messa in atto Più che proclamata Deve essere fatta Ecco questa è la diversità Fondante rispetto Alla cultura greca Nel Nuovo Testamento Allora Veniamo un po' Più da vicino Al tema Ma tutto questo Mi serve per Cercare di esprimere Un concetto Che mi sembra Importante E' vero che Insomma questa Idea Questo termine Verità Richiederebbe volumi E volumi Noi facciamo Lo sfioriamo appena Sui bordi Per 70 volte Nei Vangeli di Gesù C'è una formula rivelatrice Una formula particolare Esclusivamente sua In verità Io vi dico Formula che non è stata trovata Da nessun'altra parte Che il Vangelo di Giovanni Addirittura raddoppia In verità In verità Vi dico E in greco Latino Ebraico Ramaico Questa affermazione Nei Vangeli suona Amen Amen Dove ritroviamo La radice appunto Di emet Verità La parola Amen Che si è insediata In tutte le nostre liturgie Come un finale Un po' automatico Alle preghiere Molto distratto Quando non è un respiro Di sollievo Perché è finita Ma non è lì Per ratificare La conclusione Di una orazione Esprime Un atto di fede Un piccolo Minimo Credo Che significa È vero Ci credo È così E non già Come è stato tradotto Così sia Come fosse un augurio Non è un augurio Si tratta Di una asserzione Di un atto di fede Io lo credo È sicuro È affidabile È la solida parola Su cui appoggio Allora Gesù poi aggiunge In verità Io vi dico Mai nessuno Aveva osato dire Io Con l'autorità Con la sicurezza Di Gesù Nessuno prima Aveva detto io Con questa pretesa Con questa forza sicura Questa autorevolezza Senza inclinature Ora in tutta la Bibbia Ci avviciniamo a Giovanni L'uso più frequente Della parola verità La troviamo Nel Vangelo di Giovanni 55 volte Su 173 del Nuovo Testamento Direttamente Sulla bocca Delle rabbi di Nazareth E poi in Paolo Molto spesso Gesù In verità Io vi dico È consapevole Di essere portatore Di qualcosa di unico Per l'umanità Al punto Da aggiungere A prendere Come suo nome Il nome Della verità In quella formula Dove troviamo La pienezza L'apoteosi La chiave Di volta Su cui si regge Tutto l'edificio Io Sono La verità Tra le molte Autodefinizioni Che Gesù Dà di se stesso Io sono Il pastore bello Io sono la porta Io sono il pane Io sono la vita La strada La luce Il chicco di grano Sono tutte immagini Metafore Specchi di Dio Verità Invece La parola verità È un nome proprio di Dio È il suo agire Per contro Il nome del nemico Cioè il diavolo È esattamente l'opposto È il padre Della falsità Della menzogna E ha sempre In Giovanni Cos'è la verità Domanda Pilato A Gesù Domanda In evasa Senza risposta Perché ogni risposta Non sarebbe Stata capita Parlano lingue Diverse Pilato Intende la verità In termini classici Greci Come una conoscenza Della mente Gesù La intende In termini biblici Come vita Pilato Pilato avrebbe dovuto Chiedere Non cos'è Ma chi è La verità Sono io La verità E cosa vuol dire Le sue nozioni Le sue espressioni Verbali Io Cioè un uomo Con le sue azioni E le sue parole Con le sue mani Colme di pane e di pesci Con i suoi occhi profondi E dallo sguardo profetico Un uomo che cammina Che guarisce Che accarezza Che si è da tavola Che sdemonizza la vita Che libera Rialza Risuscita Che manda via Rinati La verità è Vita in azione In cui si vede La suprema verità Ovvero Quello Che Dio fa Ed è E allora Noi vediamo Che sulla bocca di Gesù La verità È anche Veracità Le sue parole Sono vere Non parla Per sentito dire Perché credibili Solide Parole diventate In lui Carne e sangue Reggono il peso E le contestazioni Del vivere Perché Messaggio e messaggero Coincidono Lui dice ciò che è Ed è ciò che dice Ma la verità È ciò che arde Sono mani E parole E cuori Che ardono Sono le parole Diventate ardenti Diventate Tua carne E tuo sangue Solo quelle Sono vere Non quelle copiate Non quelle Tirate fuori Dal taschino Ma strappate Dalle viscere Non quelle Come etichette Esatte Incollate Su di una lattina E le incarne I contenuti La definizione La definizione Abbondante Abbondante Questa è la sua verità Che vive una vita Che vive una vita Come la sua Buona Bella Beata Vive una vita Di una qualità Indistruttibile Capace di attraversare La morte Di attraversare L'eternità Allora Ecco Il Vangelo di Giovanni Supera benissimo La nozione greca Di Alezzeia Come corrispondenza Di ciò che dice La realtà Delle cose Supera anche Le mette Del Vecchio Testamento Come sicurezza E shalom Della storia E crea Una nuova visione Cristo È La verità La verità È Cristo Quando noi diciamo Chi è Cristo? Cristo è Dio Ci viene facile Ma se io vi domando Chi è Dio? Non viene facile dire Dio è Gesù Io sono la via La verità La vita Tre parole E la verità sta in mezzo Tra una strada La via Che indica un metodo Un percorso E la vita Che è il fine Il glorioso porto C'è una eccedenza Della vita Rispetto alla verità E vedremo poi anche C'è una eccedenza Della gape Cos'è la verità? Ecco Pilato la considera Una cosa oggettiva E non può capire La verità Con questo carattere Personale Agito Nella storia Che la verità Suprema Si rivela Nei gesti Nelle parole E soprattutto Nella croce E Pasqua Di Gesù La verità Là sul Calvario La verità di Dio È amare Da morire Amarci Da morirne La verità La verità Della vita Di Gesù La sua croce Risurrezione Hanno un ruolo Determinante Nel mio destino Nel destino Di ciascuno di noi E il discepolo Poi Spinto dallo spirito Ad attuare la verità La verità Di quella vita Di Gesù Nella mia vita Essere prolungamento Di quella vita Non sono più io che vivo E Cristo che vive in me Dice Paolo E in questo modo Sentite che bello Giovanni dice Noi diventiamo Collaboratori Della verità Ma come la verità Ha bisogno di collaborare Sì, la verità Come vita Ha bisogno Della nostra vita In collaborazione Allora La verità Vi farà liberi Ci siamo arrivati Finalmente Scusate L'abbiamo presa Alla larga Però Per cercare Di cogliere Le sfumature La verità Vi farà liberi Il criterio Della verità E la liberazione Dell'uomo Perché? Perché Dio Si annuncia Come il liberatore Io sono il Goel E tutta la sezione Della legge biblica Inizia con questa parola Io sono il liberatore Tuo Dio Non avrai altro Dio Che non sia liberatore Non fare di me Un Dio che ti rimette in schiavitù Noi siamo liberati Ma non siamo ancora diventati liberi E il motore Della falsità È in noi La paura E la mancanza Di libertà Allora Ripetiamolo ancora una volta La verità Nella Bibbia È Dio Che si manifesta Nella storia L'azione Di Dio Creazione Liberazione Incarnazione E l'azione di Dio Quale scopo ha? La verità di Dio Quale scopo ha? Quello di essere adorata Glorificata Cantata No Ma la liberazione Del suo popolo In cima a tutto È posta La libertà Dell'uomo E lo fa anche Gesù Quando nella sinagoga Di Nazareth Annuncia Il suo programma Messianico Per due volte La parola centrale È Aphesis Libertà Liberazione Liberazione agli oppressi Libertà ai prigionieri L'incarnazione Ha come Suo scopo La nostra libertà Allora ecco La verifica Della verità È sempre La liberazione al futuro Infinito futuro Nel Vangelo di Giovanni Dove Il fiume Della Bibbia Sfocia Sul tema Della verità Proclamata Diffusa Mostrata La persona di Gesù È la verità Di un Dio Che ama Da morire Da morirci Allora Allora succede che Sono intercambiabili Sono intercambiabili Dio e la verità Conoscerete Dio E Dio vi renderà liberi Conoscerete Gesù E Gesù Vi renderà liberi Lui libero come nessuno Che non ha mai cambiato idea per paura Che non ha mai Che non ha mai Rinunciato Alla sua Parola O alla sua Conflitto Allora abbiamo davanti Con Gesù Siamo davanti All'uomo più libero Che si sia incontrato Allora La vita di Gesù I suoi gesti Le sue parole La lavanda dei piedi I buchi dei chiodi E poi Il sepolcro vuoto Questa è Per Giovanni La verità Che ci ha reso liberi Cioè Chi vive Come ha vissuto lui Nel dono Della vita Per gli altri Costui Diventa libero La verità Dell'uomo Non è nel prendere Ma nel dare Siamo liberi Dal labirinto Del nulla Liberi Dal deserto Del disamore Liberi Dall'Egitto Dei vitelli d'oro Liberi Dal narcisismo Dall'io Che ruota Intorno a se stesso Liberi Dalla indifferenza Dalla durezza di cuore Dalla ipocrisia Da tutti i mali Allora La verità Di Gesù Non è Ciò che Dico di Cristo Ma ciò che Vivo di Lui La verità È Dio Fonte Di libere vite Noi non siamo liberi Perché abbiamo paura Abbiamo paura Del giudizio Degli altri Prima di tutto Non siamo liberi Perché qualcuno Ci compra Si impossessa Di noi Legami strani Dipendenze Idoli Che pretendono Tanto Tutto Non siamo liberi E indossiamo Maschere Gesù No E vedete Tutte le volte Che abbiamo avuto La fortuna Di incontrare Uomini e donne Di fede vera Io ho incontrato Due cose in loro Non tanto la bontà Perché anche Un uomo Corrotto Può avere Di tanto in tanto Momenti Gesti di bontà Ma ho incontrato La gioia La gioia Una serenità Un lampeggiare Un lampeggiare di festa Nella loro vita E poi la libertà Dai grandi credenti Si sprigiona Una libertà contagiosa Liberi da tutto ciò Che è secondario Dalle stanche tradizioni Dai ritualismi Per essere fedeli Solo all'essenziale Libertà E fedeltà Ecco Ad eccezione Di Luca 4.25 I sinottici Non usano mai La parola Verità In bocca A Gesù Dovrebbe Significare Che La verità Come concetto Nella predicazione Di Gesù Non ha avuto Un ruolo Rilevante Invece Quando Gesù Si riferisce A qualcosa Di importante Di solido Di attendibile Usa Il termine Ebraico Amen L'uso Che non ha Nessun riscontro Altrove E unico Tipico Del rabbi Di Nazareth E introducendo Le sue parole Con l'amen Gesù Le definiva Sicure E fedeli Salde E vincolanti Per sé E per noi Degli uditori Un ultimo passo Avanti Per cogliere Un'evoluzione Della verità Paolo accoglie Vari elementi Nel suo concetto Ma ha due Formule verbali Tipiche Vi annuncio Il Vangelo Della verità E poi Fare La verità Paolo In Efesini 4 15 I cristiani Sono quelli Che fanno La verità Nella carità Veritatem Facentes In caritate In greco Ale Ceuontes En Agape Nell'originale greco Noi cristiani Siamo letteralmente I veritanti Voce del verbo Veritare Che non esiste Essere cristiani E fare la verità Ma come? Dentro L'amore La verità Fina a se stessa Può essere anche crudele Noi siamo i facitori di verità Come i facitori di pace I costruttori Gli artigiani Della verità Veritatem In caritate Capite? Non viceversa Caritas In veritate E qui mi permetto di Dissentire Da Papa Benedetto Dalla sua lettera enciclica Caritas In veritate Inverte Il rapporto biblico Tra le due parole E la verità Che va intesa Dentro la logica Dentro il mondo Della carità Partorita dal grembo Dell'amore Verificata dalla legge Suprema dell'amore La verità Non è il massimo Il massimo È l'amore Allora Veritatem facentes In caritate Quante volte si usa La verità di una frase Anche delle cose più sante Del Vangelo Per colpire Ferire l'altro Per lapidare A colpi di citazioni bibliche Qualcuno dice che I più grandi delitti Della storia umana Non sono stati fatti Per odio Ma sotto il regime Di verità Quando la verità Veniva eletta A sistema La verità Delle ideologie Totalitarie Del novecento Per esempio E il dramma È che le guerre Per lo più Non sono fatte Per odio Ma per valori Sentiti come positivi Mi spiego I soldati Che si fronteggiano Non si odiano Tra loro Difendono valori La bandiera L'onore Uccidono il nome Della patria Della famiglia Per essere dalla parte Di Dio Perché si sentono Della parte Della verità Ed è successo Lo stesso Per la verità Della fede I dogmi Per difendere La verità Si bruciavano Gli eretici Pensiamo ai sacri Macelli Della valtellina La mia verità Religiosa Etica Politica Ed ecco Sorgere militanti Fondamentalisti E i kamikaze Che danno la morte In nome Della loro verità Del loro Dio E si indicano Crociate Guerre sante Il cui scopo È distruggere L'avversario Si avvia La macchina Del fango Ecco L'espressione di Paolo Teniamola presente Fare la verità È riassuntiva Del concetto biblico Perché la verità Non è un dato di fatto È un dato da farsi Un divenire E questo non è relativismo È crescita È approfondimento Penso Nei secoli Nei millenni Nei continenti Alla esuberanza Di forme Che le varie chiese Hanno vissuto Forme diverse Di teologie Di mistiche Di spiritualità Di riti Di lingue Di forme d'arte Di etiche Di diritto canonico Di interpretazioni Della Bibbia Voi sapete Ci sono diverse 27 chiese cattoliche Oltre quella romana Con riti Codici Sensibilità Diverse E la chiesa intera È sempre reformanda Dov'è la verità? La verità è plurale Siamo artigiani Di una verità incompiuta Allora cos'è la verità? È una debolezza? È uno sgretolamento Delle basi solide? No La diversità La creatività L'originalità Che è dono Dello Spirito Santo Talenti diversi Per ciascuno È una forma Di preghiera La tua Originalità È già una forma Di preghiera Non è l'uniformità Che da lode a Dio Ma la fioritura Diversa Che mostra Che Dio Non può essere recintato Che è un mare In cui si scoprono Nuovi mari Quanto più Si naviga Che è sorgente Inesauribile Che non viene mai meno Fare la verità Nella carità Ecco perché La verità è sinfonica E questo ci libera dentro Secondo me Questa visione Ci libera La verità è fatta Sinfonica Fatta Dalla mia nota Più la tua nota Più la nota dell'altro La verità è Ricerca Dialogante Dialogante Così la struttura Di governo Della Chiesa Cattolica Non è né democratica Né assolutistica Ma è sinodale Sinodo Cosa vuol dire? Insieme di strade Una pluralità Di vie Un convergere Di sentieri Che per strade diverse Conducono verso La meta La verità Che è una ricerca Dialogante La verità Ha un'anima plurale Un'anima di pellegrina Verità è strada Che bello Quel verso di Montale Che dice Ogni immagine Porta scritto Più in là E infatti Il primo nome Dei cristiani Era in un certo senso Questo Più in là Il primo nome Era Quelli Della strada Oites Odu I viandanti I pellegrini I viaggiatori L'homo viator Non quelli Della stanza Chiusa Fare la verità Questo Essere fedeli Alla verità Ed essere liberi Il regalo Che ci fa Gesù E tutti i profetti E questo Noi apparteniamo Ad un sistema Aperto E non a un sistema Chiuso Bloccato Definito Dove tutto È già stato Scritto E detto Noi apparteniamo A un sistema Aperto Allora la verità È sinfonica È aperta È dialogante Ora Facciamo Questa strada Insieme La tua verità Scrive Ezra Pound Il poeta Tientela per te La nostra verità Cerchiamola insieme E la verità è questo È sinfonica Non è mai Una monodia Povera Ma una polifonia Ricca Il concorso Di più voci È l'ascolto Di maestri plurali Io temo Temo tanto L'uomo di un solo libro Quello che ha letto Un solo libro E si fida Di un solo libro E infatti vedete Nel primo concilio Della prima comunità A Gerusalemme Scatta Il problema Della verità Subito Sono passati pochi anni Dalla morte di Cristo Atti degli Apostoli 15 E qui c'è la verità In sinodo Nel conflitto Tra due posizioni Se i pagani convertiti Dovevano vivere anche Le prescrizioni 613 Della legge Di Mosè Oppure no E si raggiunge Un accordo Tra i giudeo cristiani E gli altri È interessante una cosa Che le clause Clausole Che allora Risultavano Determinanti Obbligatorie Oggi non significano Più niente Non sono più vere Cioè non sono più Da vivere Dicono Solo si ordini loro Ai pagani convertiti Di astenersi Dal mangiare carne Sacrificata agli idoli E dove mai oggi? Dalle unioni illegittime Questo si rimane Dagli animali soffocati E dal sangue Che non esiste più Decisioni Del primo concilio Dimostratesi Nel tempo Senza verità oggettiva Specchio di una eredità Di una tradizione Di una sensibilità Temporanea Locali Da subito nella storia Vediamo Che la verità È incamminata È sinfonica È una strada dialogante Una ricerca In cammino Sinodo E anche in conflitto Talvolta perché Paolo Lo dice chiaro Mi opposi a Pietro A viso aperto Ora credo che una Delle rivoluzioni Pastorali Più belle Di Papa Francesco È l'idea Dell'accompagnamento Non Del versare La verità All'orecchio Col cucchiaino Alle persone L'accompagnamento Cioè Il pastore Che accompagna Che cammina a fianco Che rallenta il passo Su quello Dei suoi Amici Non imponendo Verità teoriche Dall'alto Di un pulpito Non impartendo Direttive Dalla cattedra Non dando i voti Al comportamento Etico Delle persone Ma camminando Insieme Con i ritmi Magari Claudicanti Delle persone Cercando Insieme Dialogando Insieme La pastorale Dell'accompagnamento E la rivoluzione Della verità Come ricerca In dialogo Suggerisce anche L'umiltà Dei piccoli passi Non domanda Perfezioni No Neanche Gesù Ma progressi Il sistema Della perfezione Ha fatto Tanti danni La verità Non è perfezione È cammino Un errore Di meno di ieri Dio non vuole Che per accendere Una lampada Simbolo della verità Si spenga Un cuore Allora ecco La verità Non può essere imposta La verità Ha le sue ore Le conosce Le sa attendere Le ricerca Insieme A differenza Di qualche Impaziente Paladino Della verità La verità Ha tutti i diritti Anziché Il diritto Forché Il diritto Di imporsi E di essere Intollerante La mia conclusione Allora La verità Vi renderà Liberi Dire Vivere La verità Ci rende Liberi Da tutto ciò Che è secondario Da maschere E da paure E ci rende Veraci La veracità È uno dei contenuti Di Alezza Iadi Emet La vita Nella realtà Di Dio Esige Dall'uomo La veracità Che significa Essere leali Onesti Schietti Con sé Con gli altri uomini Con Dio Questo secolo Appena trascorso Ha dato un impulso Enorme Alla ricerca Di veracità Nelle nostre vite Di autenticità Contro le ipocrisie Dell'epoca Vittoriano Contro il perbenismo Dell'epoca borghese E lo ha fatto In vari campi Della vita Nella letteratura Nel cinema Nel teatro Nell'arte Nella psicologia Nella vita privata Nella vita pubblica Ricordiamo tutti Il grande Jung Che dice Ci ha insegnato Che la veracità Con noi stessi Anche con le proprie ombre Nel profondo È necessaria Perché la persona Non sia la maschera Del proprio io Noi rischiamo di essere La maschera Del nostro io Anche Gesù usa Lo stesso aggettivo Per esempio Nel dialogo con la samaritana Bellissimo Quando per due volte Afferma A quella donna Hai detto il vero Il vero La vita della donna È contorta Ha avuto cinque mariti E il sesto Non è neanche un marito Ma il suo cuore è diritto C'è veracità Nelle sue parole Ed è sottolineando Questo Sottolineando La sincerità Del cuore Che Gesù Vede nella donna Dai cinque mariti La possibilità Di uscire Dal deserto Dell'amore Dalla vita Assetata E sbagliata E il dono Di quell'acqua Che diventa sorgente Meraviglioso dono E diventa possibile A partire Da un semplice Scampolo Di veracità Di verità Intesa come veracità Dalla verità Che lei pronuncia Sulla propria vita Sbagliata Prende avvio Una vita esatta Le ferite Diventano feritoie La verità Non cerca Perfezioni Ma progressi Allora Essere veraci Nei confronti Degli altri Non significa Sbattergli in faccia La verità Significa Fare La verità Nell'amore Con amore Per mezzo Dell'amore Sono i fanatici Che rincorrono Il loro idolo Di verità L'idolo feroce Verità Costi quel che costi Seppellendo Ogni rapporto Personale Seppellendo L'amore Sotto la verità La nostra Veracità Significa Impegnarci A vivere Per la libertà E la liberazione Nostra Le parole La vita E la morte Di Gesù Siamo veri La verifica è Se siamo liberi Perciò Io e voi Tutti i cristiani Possono pregare così E concludo Conservaci Nella verità Donaci Eterna libertà Per amare La vita Autentica Con cuore Semplice E vero Per mezzo Di Gesù Cristo Amen Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti